ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR c'è una mia gattina fiammiagola, scusate ma non posso ammutolirla allora dato che in questi giorni purtroppo non sto tanto bene, un po' di acciacchi generali non avevo l'attenzione di mettermi a fare video un po' elaborati quindi ho deciso giusto per non far saltare il video del venerdì perché mi sarebbe dispiaciato un sacco di farvi vedere gli ultimi acquisti che ho fatto di make up in questo periodo quindi farò una specie di haul ASMR e continuo a miacolare ho fatto anche alcuni acquisti di cosplay però poca roba quindi ho deciso di non metterla e vi faccio vedere appunto giusto le cose beauty le ho messe tutte qua dentro in modo da non dimenticarne nessuna praticamente le cose che ho acquistato sono un po' vabbè anche per il cosplay ho preso un po' di cose su Aliexpress poi alcuni erano rimasti di regali di compleanno perché mi avevano dato dei soldini quindi li ho messi da parte e in questo periodo negli ultimi mesi li ho spesi anche se non tutti però fate conto che queste cose sono degli ultimi tre mesi si degli ultimi tre mesi forse anche di più comunque iniziamo tra l'altro questa pochettina è bellissima allora cominciamo vabbè la prima cosa che vedo qua sopra ho un mal di gambe che non avete idea ovvero questa qua mi sono comprata la Soul Blooming l'ultima palette uscita di Nabla che è bellissima l'ho già usata un po' di volte solo che è molto recente quindi ancora non l'ho sfruttata moltissimo sicuramente porterò questa e l'altra di Nabla quando partirò perché sono super comode allora questa è la confezione a me piace di più quella dei ladrini però a me interessavano i colori che sono stupendi eccole qua gli ho usati tutti i miei preferiti sono questo che è Honey Trip che ha dei riflessi stupendi non credo si notino però sono bellissimi poi Garden Gate che è questo qua e Philosophy che è questo qui l'unico che ancora non ho usato è Flowery che è un colore molto particolare niente la sto sfruttando abbastanza nell'ultimo periodo certe volte proprio scelgo anche solo un colore soprattutto i marroncini tipo questo questo che non è un marroncino un pesca questo e li stendo semplicemente su tutta la palpebra con un po' di mascara il marrone scuro anche mi piace tantissimo e niente è molto molto bella questa palette magari faccio un confronto con l'altra molto veloce ok questa è l'altra l'ho usata tantissimo questa infatti è tutta impolverata faccio vedere faccio vedere allora questa è la prima uscita ovvero la Dreamy e questa è la Soul Blooming bellissima poi andiamo avanti vi faccio vedere qualcosa di Aliexpress vi faccio vedere qualcosa di Aliexpress ho fatto un ordine ad aprile era ancora comunque un bel po' di tempo fa perchè sapete che Aliexpress ci mette un sacco di tempo a far arrivare le cose comunque ho tra l'altro cominciato ad acquistare da molto poco Aliexpress ma per ora mi ci sto trovando bene ecco mi è sempre arrivato tutto l'ho comprato questa che è tipo la la genialata è la cosa migliore che io abbia acquistato no vabbè scherzo è una pinzetta a parte il colore che non mi piace però c'era solo questo è una pinzetta fatta apposta per l'aliexpress per l'applicazione delle ciglia finte e ve lo giuro funziona nel senso che avete un bella presa con questa pinzetta al contrario di quella con delle sopracciglia che sino più piccola fa muovere un sacco la ciglia insomma e poi questa forma permette di dare alla banda delle ciglia finte è una forma ottimale per l'applicazione quindi voi basta fare così sistemare un po' la parte interna un po' la parte esterna ed è finito cioè non ho mai messo cioè è veramente velocissimo mettere le ciglia con questa mi piace tantissimo poi ho preso queste che sono delle ciglia finte inferiori io queste le uso solo per il cosplay tra l'altro sono ancora chiuse tra l'altro sono ancora chiuse andiamo un po' eccole sono molto mangose costano molto poco queste cose fate conto che in tutto ho preso neanche 5 euro quindi queste quindi queste poi ho preso questi due pacchetti di ciglia finte che sono molto simili e hanno la banda trasparente il che mi piace un sacco come cosa quindi un pacchetto è questo le altre sono forse un po' più volte sempre molto mangose però poi un'altra cosa che vi voglio far vedere che non è proprio make up beauty comunque è bellissima è questa che ha una valigetta per metterci cose io ci ho messo le cose del cosplay ed è bellissima l'olografica l'ho comprata da Primark è stupenda è una cutoria per gli occhi ok quindi questa cosa molto veloce anche perché pesa un sacco tenerla così poi torniamo alla nostra pochette allora da Sephora a parte che sono andata a ritirare il famoso regalo di compleanno che vi danno appunto con la carta fedeltà che è questa maschera qua che ancora non ho provato ho i capelli ancora un po' umidi perché ho fatto la doccia per almeno sto fresco allora è la face no come si chiama? blue clay mask ok è una maschera all'argilla quindi fino a 4 così c'è scritto niente è una di quelle maschere che si mettono e poi si lavano l'ho ancora provata però credo che il mio tipo di pelle vada bene poi vabbè per chi ha questi che ho fatto da sempre ve li faccio vedere dopo sempre con come regalo di compleanno perché alla fine era un regalo di compleanno poi ho preso su Amazon questa palette di correttori sempre per il cosplay per coprire le sopracciglia io li uso e si chiama Black Forest Natural Concealer Tomes ce ne erano di tantissime colorazioni io ho preso quella che prevedeva più shades in assoluto e niente ovviamente non è una cosa da utilizzare tutti i giorni però l'ho fatta ogni tanto appunto secondo me vanno più che bene costano poco sono economici e poi io ne uso quantità industriali e quindi qui 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 Grazie a tutti. Allora, è fatta così, non ha uno specchio e questi sono i correttori, ci sono dai più scuri veramente, questo è bello bello scuro, ai chiarissimi c'è addirittura il bianco e poi ci sono alcuni colori correttivi, c'è un verde, un rosa, un giallo, questi appunto per fare il pesca è ottimo, e poi appunto dei colori, dei color carne di diverse tonalità, ho dovuto fare un cambio di batteria, scusate. Allora, sta facendo, ci sono tantissimi colori. Allora, sta facendo. Allora, sta facendo. Ma il più chiaro non è chiarissimissimo, però essendoci il bianco insomma questa cosa si risolve. Fate conto che per me è il colore più chiaro, questo no perché è un pesca, quindi è un correttivo, ma questo sarebbe il più chiaro all'incirca. Per me è scuro, io sono la terza colorazione di fondotinta di Fenty Beauty, quindi ho una carnaccione molto chiara. Di inverno adesso sono abbronzata, cioè andiamoci conto. E però per l'utilizzo che ne farò è l'ultima questa. Le ultime cose che ho comprato di Nabla, queste mi servivano assolutamente. Anzitutto ho comprato questa che sono andata in una mia profumeria ed era in sconto, quindi l'ho pagata la metà circa. È la Brow Divine Ultra Slim Retractable Brow Pencil. Il colore Finus 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 Che è questa è la matita, appunto, questa è la confezione. È la matita di Cromina. Per lì sopra chi La matita di Cromina è la matita di Cromina. L'ho comprata perché come genere mi sono trovata abbastanza bene con questa che è di Primark, solo che l'ho finita. Mi è rimasto proprio un goccino e quindi ho deciso di provare qualcosa di una qualità un po' più elevata. L'altro che era super scontata, l'ho presa. Questa è la matita di Cromina, questa è la matita di Cromina, questa è la mia vecchia appunto, però anche questa ha lo scopolino da una parte e dall'altra ha la micromina. Solo che è un po' caldo come colore questo per me. Poi sempre appunto di Nabla, mi sono presa un correttore, il correttore e mi serviva assolutamente un correttore coprente, anche se credo sia un po' chiaro per questa stagione, però ho tentato ad usarne di meno. In estate, in generale di trucco, però vabbè, ho preso il Close Up Concealer, però tra l'altro dovevo prendere anche la cipria, perché mi è rimasta solo quella gialla ed è troppo scura per me. Cioè, almeno da usare sotto il viso, quindi ne vado in giro come un Simpson praticamente. Comunque, il correttore è il Close Up Concealer Stay Full Smooth, con questo design molto vintage. E questo è il correttore, e questo è il correttore. Me lo faccio vedere velocemente. Questo ancora non l'ho provato. È bisantissimo, cioè, vabbè. Io ho preso il colore Porcelain, ovviamente il più chiaro, che per adesso è chiaro, neanche troppo è. Però, io ne uso veramente tanto poco, quindi ho preso un colore che mi entra bene d'inferno, in cui lo sfrutterò di più. Quindi questo, eh no. Finiamo con, sì, una cosina che ho comprato da OBS, che secondo me per l'estate è fantastica. Questo è il primo illuminante liquido, è il primo illuminante liquido che provo di Makeup Revolution. È Liquid Highlighter nel colore Starlight. Liquid Starlight. È a pompetta. E devo dire che mi piace un sacco. Poi ce l'ho un po' sul naso, adesso poco, perché è luminosissimo, ma luminosissimo. Adesso ve lo faccio vedere. Ne ho preso una puntina. Vedete? È molto bello, si asciuga. E questo secondo me è anche molto carino da usare un po', tipo sulle spalle, sul décolleté, quando si è un po' più abbronzati, ecco. E niente, per ora mi sta piacendo molto, appunto questo. Su tutto il viso tento, vado a non usarlo, però sul nasino, su qualche zona, ecco. È molto carino. Poi, passiamo agli ultimi acquisti che ho fatto da Sephora. Era da un sacco di tempo che non andavo da Sephora. Allora, ho preso due cose. Un rossetto liquido di Uda Beauty, finalmente. Ed è l'Uda Beauty Liquid Matte, nel colore Wifi. Che è un colore molto, molto chiaro, che ancora non ho provato. Oddio, mi si sta rompendo un'unghia, comunque. Questo colore qui. Molto bello. E conto di usarlo molto. L'ho provato solo quando ero in negozio, mi piaceva molto l'effetto che mi ha fatto sulle labbra. E' un colore chiarissimo, ma chiarissimo. Quindi se siete appena un po' più bronzati rispetto a me, secondo me... Me, me, me. Non vi sta molto bene. Però se avete una carangione chiara e non troppo li vostra, sicuramente è bello. Ho fatto cadere un po' di illuminante vicino al microfono. Fantastico. E poi, quando ero in cassa, ho visto questo kit di mini size. Che è più che mini size, cioè, madonna, c'hanno dentro tantissimo prodotto di Fenty Beauty. Che costava poco rispetto ai prezzi dei due prodotti in full size. Che comunque, vi ripeto, c'è tanto prodotto qua dentro. Poi, ora che si finiscono, insomma, ce ne vuole. Che costa sui 18 euro e si chiama Bomb Baby Mini Lip and Face Set. C'è dentro un illuminante kilowatt e un lucidalabbra che a me ha sempre ispirato tantissimo e in effetti ne vale la pena. Allora, hanno messo dentro come illuminante che è Asla Baby, è appunto l'unico lipgloss, credo, quello universale. Questi due già provate, li ho rimessi qua dentro giusto per farvi rivedere. Quei carini, tutti impancchettati. Allora, è così. L'illuminante è molto bello. E' appunto Asla Baby. Ah, non avevo mai notato che avesse sulla scatolina tipo dei riflessi blu. Credo si veda un pochino. Questo no. Comunque, questo non l'ho provato, ma è bello. Io, è un colore che posso usare appunto solo in questa stagione. Però secondo me hanno scelto bene, perché si può adottare anche a una pelle più scura, ecco. Sia dalle più chiare, alle più scure. Bisogna saperlo dosare, sicuramente. E' bellissimo. E tra l'altro, ha anche lo specchietto, quindi. E poi abbiamo il gloss, il gloss, il gloss, il gloss, il gloss, il gloss. Che bellissimo. Non amo l'odore. Perché è dolcissimo. Sa... Mi sa di Ikea. Io non lo so. Le candele dell'Ikea, ecco, si sa di quello. Quando voi andate nel reparto candele, sentite questo odore. Ma l'effetto è bellissimo, bellissimo. E per essere un gloss dura anche tanto. Comunque, ve lo faccio vedere. E' questo qua. E' questo qua. Andiamo. E' questa qua. E' questo qua. E'сь auguro. E' questa qua. Grazie a tutti. Ok, con questo video è tutto, spero di non avervi annoiato però ci tenevo insomma, almeno spero di riuscire a ditarlo perché ci proverò insomma a fare del mio meglio, al massimo lo vedrete il sabato. Questo video però vi avviserò, io vi avviso sempre su Instagram, se c'è qualche cambio di programma vi lascio sotto nell'info box il link, se vi può interessare ovviamente. E niente, con questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!